Ciao come in ergo Come vediamo il ruino Come vediamo Jack Come vediamo il ruino Come vediamo il ruino Ma va fare il mondo È il mondo Non vi viene lì Buon anno Non va però Noi… Non è nessuno se si 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 ciao no la prima non vede 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 vene ma sacco lo niani no butta limo godana limo ova buono a di che la pachina canna boyone we nasce a wale nana nusobo erika Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info C'è anche il tuo amico e il nostro corso i soldi. noio for that suicide in anemia lack of job back of jobs no we are we have no work we are doing nothing and then we are asked to sit at home and we should sit at home and do nothing sit at home and do what what should we be what should we be doing at home oh yeah we can second to war when i say i see this is here at home give me now for our future what will be the outcome getting a board and you're lying getting this new wine keep i get peace on kind of ways of you know they know wow do og coffee coffee or tea i don't i don't i don't i don't understand so because see what to occur however who's the end of the government cannot wait to open they should take it easy on us take it easy on us oh 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 è un video di becchino roncarna passina e che è una buona amè